Assessore Ponti, oggi anche l'amministrazione comunale ha voluto essere presente per sostenere la battaglia del Dalla Chiesa. Qual è la vostra posizione sulla palestra? Pensiamo chiaramente che il Dalla Chiesa faccia bene a farsi sentire, a far sentire la sua voce. È da quasi un anno che la palestra non è disponibile. Da un confronto che abbiamo avuto fin dal nostro insediamento con la provincia, il risultato è che la situazione è bloccata per problemi burocratici, mancavano documenti. Fortunatamente la cosa sembra si stia sbloccando, ma vediamo che i lavori non sono ancora partiti. Siamo qui per dimostrare la nostra vicinanza al preside, al dirigente, alla scuola e far sentire anche la voce del comune perché la mancanza di una palestra così importante è pesante e gravosa anche per le associazioni sportive del territorio, non solo per gli studenti. Siccome tutto questo è collegato è importante che la situazione si ripristini il prima possibile. Grazie